Carlotta dell'Isola è un personaggio che al grande fratello Vip ha regalato poco. La ragazza, durante Temptation Island, aveva offerto al pubblico una parte della sua persona molto briosa e il lato del suo carattere forate e spigoloso non è ancora immerso nella casa. Il fidanzato nello sorrentino, intervistato tra le pagine di Novella 2000, svela che le cose potrebbero cambiare e fa un paragone. Sono contesti totalmente diversi. A Temptation Island, Carlotta e io eravamo andati per chiarire delle incomprensioni ed era normale che nascessero vari battibetti. Adesso al grande fratello Vip, la mia fidanzata, si sta confrontando con personaggi dello spettacolo molto famosi ed è ovvio che resti un po' in disparte. Non è abituata ed è comprensibile. Da teletempo, sono certo che prima o poi il suo vero carattere uscirà fuori. Nello sorrentino ha precisato che il carattere della fidanzata Carlotta dell'Isola è pronto ad uscire fuori. Chiacchiera con tutti e nessuno le ha mai detto delle cose per farla innervosire. Mi auguro che questo suo lato umano piaccia anche al pubblico che guarda la trasmissione e che le faccia proseguire il gioco. Quello che adesso mi interessa è che sia felice e soddisfatta del percorso che sta facendo. E sulla proposta di matrimonio, il fidanzato della concorrente del GF Vip, racconta. L'intenzione c'è sempre e non appena Carlotta tornerà a casa, mi sono promesso di farle la fatidica proposta di matrimonio. Ci tiene tanato e lo stesso vale per me. Preferisco farla in forma privata. Oggi, con il problema del Covid, sarei costretto a farle la proposta dietro un vetro, ma queste cose non mi piacciono. Adoro fare le cose in grande e anche la promessa sarà così.